guarda velocissimamente non facciamo cazzate non facciamo cazzate non sottovalutiamo l'avversario non prendiamo sotto gamba questa partita perché ragazzi il parma in serie B sta volando il parma il prossimo anno gioca in serie A vi dico solo questo cioè ragazzi il parma arriverà a parte che ha recuperato tutti gli acciaccati infortunati gli influenzati tutti quanti e questi vengono qui stasera a Firenze mi va a fare la passeggiatina non pensiamo che useranno la squadra B di una squadra che è in serie B no loro verranno qui a giocare con i titolari mentre da quello che ho capito spazio a chi ha avuto meno possibilità nella Fiorentina e già il fatto che Nico Gonzalez si siederà in tribuna questa cosa ragazzi la mi fa un po' preoccupare dico solo questo allora ragazzi come sempre mi invito a iscrivervi al mio canale YouTube Mister Viola qui si parla del video pre partita di Fiorentina Parma valido ovviamente per la qualificazione in Coppa Italia ieri sera la Lazio ha strappato il passo contro il Genoa come sempre condividete questo video con tutti i vostri amici tifosi Viola mettete un like se vi piace commentate le vogliono sapere la vostra formazione perché io vi darò la mia come sempre qua sotto nel link in descrizione Instagram e Facebook dei miei gli altri due social ovviamente gli amici di Space Viola anche loro qua sotto nel link in descrizione ma soprattutto ragazzi condividete questo video allora in porta torna Kirstensen e ci può anche stare è un ragazzo che deve prendere fiducia è un ragazzo dove la Fiorentina ci sta puntando molto sicuramente è uno dei portieri con un prospetto migliore a livello danese che ci può essere in questo momento sul mercato è un portiere che ha avuto qualche insicurezza ma ha delle caratteristiche ha delle doti devo dire che tutti gli anni a Terracciano gli viene affiancato un portiere che è pronto tra virgolette a rubargli il posto e puntualmente Terracciano rimane sempre titolare e molto spesso lo ringraziamo per i miracoli che fa con il rientro di Cajode che credo che farà altro minutaggio anche stasera anche se Pierozzi è lì pronto a far qualcosa Parisi tornerà ovviamente nella corsia di sinistra facendo rifiatare Biraghi nel mezzo della difesa attenzione a Gerry Mina potrebbe essere nuovamente lui il baluardo difensivo insieme a Ranieri attenzione una coppia inedita ma i due si stanno scaldando al centrocampo spazio a Maxime Lopez spazio a Barak spazio a Mandragola sicuramente sia Arthur che Bonaventura che Duncan si siederanno in panchina là davanti Nzola ovviamente pronto a ritagliarsi questo spazio d'attacco che ancora sembra non volerlo prendere pronto a far rivalutare la sua prestazione pronto a far rivalutare la sua posizione pronto non lo so basta che sia pronto poi che deve fare non lo so ma basta che sia pronto e qua di Uvato là fuori probabilmente forse o da Kwame o dall'altra parte Brecalo Brecalo sicuramente giocherà della partita sottì dopo il bel gol che poi ora parleremo anche del gesto perché io ho già detto la mia nel video post partita con la Salernitana però vi ridico anche la mia di quello che penso che il calciatore abbia fatto perché ora lo stanno criticando in 3 milioni però ed è giusto criticarlo e sia chiaro quindi non giustifico il dito anzi ma ha fatto anche a me lì per lì ma come ti permetti detto questo quindi là davanti parecchie soluzioni devo dire Brecalo sicuramente sarà della partita ballottaggio tra Icone e Kwame insomma chi andrà a mettersi là io penso più Icone visto che potrebbe giocare nel suo ruolo naturale visto che Nico González si siederà in tribuna è una Fiorentina che stasera ovviamente scenderà in campo a loro avventura lo stato del tempo anche di Firenze contro un Parma un Parma che ripeto non verrà qui a fare la passeggiata una Fiorentina che potrebbe rischiare una cosa quella di non avere la quadratura globale della squadra cioè nel senso l'Italian non ha mai giocato con la stessa formazione per due volte di fila quindi è normalissimo che ci sia dei cambi è un grande turnover è un grande turnover massiccio secondo me è un po' rischioso perché ripeto il Parma per come sta conducendo il suo il suo campionato non vedo la necessità che venga un Parma che dica la Coppa Italia non ci interessa secondo me non è questo il Parma che arriverà stasera anzi anche lo stesso allenatore dei Ducali ha detto è una squadra che ci stimola è una squadra da Champions è una squadra che gioca bene a pallone è una squadra che ci darà tanti spunti è una squadra che ci rende orgogliosi di giocare questo turno e quindi vogliamo sì divertirci vogliamo sì arrivare e essere spenserati perché ovviamente uno dice partiamo sfavoriti quindi il cervello è libero la testa è libera ma allo stesso tempo vogliamo passare il turno cioè liberi da una pressione come dire non sono obbligato a vincere perché se perdo sarebbe nella norma ma voglio passare il turno la Fiorentina d'altro canto invece è costretta tra virgolette a vincere perché? perché è scontato che una squadra di serie A vinca contro una squadra di serie B quindi questo mentalmente è molto pressure visto che siamo con una proprietà americana under pressure sotto pressione e il fatto di non avere un jolly come Nico González che ragazzi se è in palla può risolvere le partite secondo me la Fiorentina parte con un piccolo handicap a livello di possibilità di schieramento in campo e di necessità poi mi auguro della Fiorentina che la sera faccia il partitone visto contro la Salernitana però se devo dirvi che se ci fosse stata sfida Parma-Salernitana secondo me vinceva il Parma senza problemi è questo che vi voglio far capire quindi dall'altra parte diciamo non ci sono pericoli numero uno ci sono dei pericoli dettati da una costruzione di gioco che il Parma sicuramente avendo la mente libera potrà anche divertirsi nel giocare questa partita noi vietato sbagliare vietato sbagliare vietato fare cavolate ma vietato proprio sbagliare l'approccio cioè noi stasera dobbiamo scendere in campo con la convinzione di avere una squadra che davanti darà tutto per tutto e tu dovrai essere cinica concreta là davanti senza sbagliare perché cioè la prima occasione che il Parma ti offre ti apre devi subito buttarla dentro e qui ovviamente entra in gioco Zola entra Icone Brecalo o chi presso o chi calcerà da fuori ecco sono contento che stasera giocherà Maxime Lopez sperando anche di poter vedere un Gino infantino che a me piacerebbe rivederlo in campo questo ragazzo magari ovviamente a partita messa abbastanza bene perché secondo me è un ragazzo con delle qualità ma se non gioca è difficile strappargli fuori la maturità calcistica ecco Maxime Lopez è uno di quelli che può tirarla fuori può calciare punizioni insomma è una squadra che secondo me stasera può mettere in difficoltà il Parma ma se ovviamente usiamo questo chiudo parlando del gesto di Sottil in molti lo state criticando io l'ho criticato subito subito non accetto il gesto di Sottil lui ha spiegato il fatto che a volte si dicono anche troppe cose che io do tutto per tutto e quant'altro il problema grosso Riccardo è uno solo che tutti noi ci arrabbiamo perché sappiamo delle tue qualità e quando tu queste qualità non le tiri fuori e sembra quasi che tu giochi col freno a mano o che tu non riesca a fare quel salto di qualità cioè fai sempre la solita giocata e poi magari tiri fuori questi gol dal cilindro è ovvio che noi ci arrabbiamo ci arrabbiamo perché allora lo vedi che lo sai fare lo vedi che se vuoi lo fai e sentirsi si tire dopo due anni che non marchi che non fai un gol in Serie A è difficile da mandare giù ora c'è stato sicuramente l'infortuno di mezzo e niente toglie l'infortuno ci mancherebbe altro però hai nelle corde la qualità di essere un buonissimo esterno coglila tirale fuori non zittire chiedi scusa al pubblico sto tornando vi prometto che tornerò non fare questo perché uno è oggettivo il fatto che tu molto spesso sembra quasi proprio che tu non voglia fare il salto e due zittire uno stadio che comunque ti ha sempre sostenuto è una tifoseria che dice ha le qualità ce le ha ce le ha ce le ha dopo due anni mi fai un gol contro la serenitana bellissimo ma sempre contro la serenitana mi zittisci il pubblico è un po' pesantuccio ragazzi ci si vede stasera nel post partita speriamo ovviamente oh di passare il turno un pochiamo cavolate che ci si vede stasera